La Puglia rientra tra le regioni a rischio moderato per quanto riguarda la trasmissione del coronavirus. E' questo quanto rende noto l'Istituto Superiore della Sanità e il Ministero della Salute nel report settimanale, proprio nel momento in cui il governo va verso l'estensione dello stato d'emergenza fino a fine anno e i contagi calano. La regione rafforza la rete di terapia intensiva e l'obiettivo è passare da 304 posti letto a 579 su tutto il territorio pugliese con un incremento di 275 posti letto. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità però, suona un campanello d'allarme per la Puglia, soprattutto sui tempi impiegati per diagnosticare nuovi casi. Nella regione infatti trascorrono 11 giorni dall'apparizione dei sintomi al tampone, un lasso di tempo ritenuto troppo lungo per tracciare il virus e ricostruire le possibili catene di contagio. Identico problema in Italia riguarda anche l'Umbria, dove però i tempi di diagnosi si attestano a 8 giorni. Al momento l'indice di contagio si attesta a 0,54 e mentre in Italia vi sono oltre 600 focolai attivi, in Puglia non se ne registrano di nuovi. Complessivamente il quadro generale è dell'impatto dell'infezione da coronavirus in Italia rimane a bassa criticità, rimane a bassa criticità con un'incidenza negli ultimi 14 giorni di 4,3 per 100.000 abitanti. Ma se tracciare il virus diventa problematico, con un'ipotetica seconda ondata prevista dagli esperti, la situazione potrebbe precipitare.